Chiale Arreda Ancora una volta l'astreglio è sull'orlo del fallimento. La prima volta è accaduto quando l'imprenditore Costamagna l'aveva rilevato dal fallimento Borsci. Questa mattina i consulenti aziendali hanno incontrato le organizzazioni sindacali e hanno comunicato loro la decisione di portare i libri contabili in tribunale. I debiti ammontano a 7 milioni e 500 mila euro. Il nuovo proprietario, Franco Ghirardini, sarebbe intenzionato soltanto a rilevare dal tribunale il marchio e ad affittare il ramo d'azienda. Questa ipotesi però non è condivisa dai sindacati. Gli alunni della scuola elementare di Prali verranno trasferiti in un nuovo edificio nella borgata di Villa. Una nuova struttura che adotta tutte le norme antisismiche e senza barriere architettoniche. Ma ciò nonostante presenta una problematica e lontana dal capoluogo di Prali. Infatti fino ad oggi il sindaco controllava i bambini in caso di ritardo della maestra e li faceva entrare in classe. Le aule erano infatti ricavate all'interno del municipio. Ma c'è chi si è già offerto di controllare i bimbi a Villa. Si tratta di una mamma, Nadia Chaglier, che ha dato la sua disponibilità per questi ultimi mesi dell'anno scolastico di dare un'occhiata agli scolari prima dell'arrivo della maestra. Una soluzione che ha tranquillizzato le altre mamme. Il trasloco verrà ultimato nelle vacanze di Pasqua. Nasce a Pinerolo la prima bioraffineria sperimentale per biometano derivante da fonti organiche. Questo è il progetto sviluppato dalla CEA Pinerolese Industriale SPA in collaborazione col Centro Ricerche Fiat che è stato ideato per sviluppare auto sempre più ecologiche e attente all'ambiente. Infatti il biometano che verrà utilizzato per l'autotrazione sarà composto da idrogeno e metano derivanti dalla trasformazione del rifiuto organico, area in cui la CEA Pinerolese è leader a livello internazionale. La trasformazione delle fonti rinnovabili sarà possibile grazie all'umido che viene conferito presso il polo ecologico integrato di Pinerolo. Vogliamo continuare con la ricerca e l'innovazione spiega l'ingegner Francesco Carcioffo amministrazione delegato di ACEA Pinerolese Industriale SPA consapevoli dei grandi risultati ottenuti da ACEA con un impianto unico al mondo per il trattamento e la valorizzazione dell'organico. Racconterà la sua esperienza alle Paralimpiadi di Pecchino e di Londra Silvia De Maria, atleta piscinese che ha partecipato alle prime giocando a tennis e alle seconde nella disciplina del canottaggio. L'appuntamento che rientra nei festeggiamenti dell'8 marzo è per domani alle 17.30 nella sala di rappresentanza del comune di Pinerolo. Voglio raccontare la mia vita, la mia esperienza d'atleta, ha spiegato Silvia De Maria. Essere bloccati su una sedia a ratelle non vuol dire assolutamente rinunciare a praticare sport. Negli ultimi anni tante cose sono cambiate all'interno del mondo della scuola ma non è ancora sufficiente. Sono ancora troppi gli studenti disabili che rimangono in classe mentre i loro compagni partecipano alle ore di educazione fisica. È giusto sensibilizzare tutti su questo tema. Iscriviti al nostro canale